Michele Occhi Pinti ritorna a Cesena in Wellness edizione 2019, la numero 6. Quali sono le novità di quest'anno? Si terrà il club ipodromo di Cesena come le prime due edizioni, 2013-2014, quindi per tutta l'associazione Time to Move è un grande onore tornare nella location dove l'iniziativa è iniziata e partita. Cesena in Wellness attende 15.000-20.000 visitatori, saranno oltre 200 i trainer coinvolti e suddivisi nelle 30 aree a disposizione, aree suddivise naturalmente fra il fitness e lo sport. Novità 2019 grazie alla collaborazione con Romagna Fondazione Solidale Onlus, abbiamo attivato un importante progetto di raccolta fondi, in cambio comunque con la donazione di 2 euro verrà dato un wellness pack che è un pacchettino contenente dei prodotti gustosi, quindi frutta secca e frutta fresca e la raccolta fondi verrà destinata per persone più bisognose di sostegno. A fianco a Cesena in Wellness anche per la sesta edizione fin dall'inizio Wellness Foundation. Cesena in Wellness è dal nostro punto di vista un progetto educativo, cioè un momento, un'occasione, un'opportunità per la popolazione a qualsiasi età, in qualsiasi condizione di provare i benefici dello stile di vita wellness, del movimento, dell'esercizio fisico e quindi di essere incentivata a cambiare stile di vita per migliorare la propria salute ma anche per aiutare la comunità nel suo complesso ad essere più sostenibile nel lungo periodo.